Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, con chiusura dell'uscita di Montelupo provenendo da Firenze e rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino e tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Sempre FIPILI e rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco in direzione Livorno. Per le autostrade in A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Su raccordo Siena-Firenze. Su raccordo Siena-Firenze. Su raccordo Siena-Firenze. Grazie a tutti.